Ben trovati al meteo di Telenuova. Queste le previsioni del tempo per lunedì 8 giugno. Al nord poche nubi al mattino, salvo qualche addensamento più compatto al ridosso delle aree alpine con sviluppi temporaleschi sulle aree confinali centro-occidentali. Il successivo aumento pomeridiano della copertura nuvolosa darà luogo ad un'estensione dei fenomeni sull'intero arco alpino. Al centro persistono condizioni di bel tempo al mattino, seguito poi dal temporaneo sviluppo pomeridiano di nuvolosità che sarà responsabile di precipitazioni a carattere di rovescio e temporale sulle aree interne di Sardegna, Abruzzo e Lazio. Al sud addensamenti compatti al mattino sulle aree ioniche con locali rovesci tra Calabria e Puglia Salentina. Poche nubi altrove, ma la giornata evolverà all'insegna dell'instabilità diurna sulle aree interne, specie a ridosso dei rilievi con rovesci e temporali sparsi in maggiore accentuazione pomeridiana tra Cilento e Basilicata Tirrenica a attenuazione dei fenomeni in serata. Sulla Campania il cielo sarà sereno poco nuvoloso al mattino e in serata. Durante il pomeriggio si formeranno sui monti dell'entroterra nubi associate a temporali, impossibile estensione alle coste e alle pianure. Temperature stazionarie, venti deboli con locali rinforzi nel pomeriggio, mare poco mosso. Temperature stazionarie, venti deboli con locali rinforzi nel pomeriggio, mare poco mosso.